Marco una partita tiratissima che voi avete iniziato molto bene con il piglio giusto in casa davanti alla marea gialloblu che poi si stava compromettendo per una Fiorentina basket del tutto rinnovata quest'anno ma che tenacemente è riuscita a tornare fino a sotto 6 punti poi i tuoi sono stati molto bravi a tenere la mente lucida anche di fronte alla zona di Nicolai Sì, concordo pienamente con quello che hai detto, lo dicevo prima ai colleghi tuoi piombinesi che con la prestazione della nostra squadra nei primi due quarti e mezzo un'altra squadra di questo campionato non me ne vogliano gli altri ovviamente però andando sotto di 22 punti probabilmente avrebbe mollato loro sono stati bravi con energia, con fisico, con tattica, dimostrazione che una squadra seppur rinnovata che alla fine fate tutti gli scongiuri del caso però troveremo nei piani alti della classifica per noi è una prestazione importante perché abbiamo giocato prima come hai detto te con grandissima qualità 48 punti credo nei primi due quarti e poi soffrendo come deve essere una delle nostre caratteristiche di questa stagione mixare la bella palacanestro che non guasta mai ha dei momenti di trincea e l'abbiamo portata via credo meritatamente però Firenze è fortissima Senza fare nome ma hai avuto risposte importanti sia dalla vecchia guardia che dai nuovi arrivati e tenendo molto in panchina anche Persico quindi hai giocato anche con un quintetto atipico adeguandoti un po' anche a ciò che Andrea Nicolai faceva dall'altra parte cosa ti aspetti poi dai tuoi ragazzi nelle prossime di campionato? Il campionato inizia dalla prossima trasferta diciamo? Sì allora il fatto di Persico in panchina è stata una scelta dettata un po' dai problemi di falli un po' dal preservarlo non è ancora al meglio ha saltato otto giorni di preparazione questo si sente per averlo fresco per avere la sua fisicità e la sua tecnica alla fine negli ultimi minuti quindi ce l'avevo in testa di rimetterlo quando l'ho rimesso mi è andata bene sono stato bravo non lo so questo però ce l'avevo in testa nel piano partita del secondo tempo di farlo rifiatare alla fine di fatti è stata una presenza importante come dicevo prima il spogliatoio è bello anche per voi giornalisti fare i ranking le classifiche d'estate e tutto quanto noi sappiamo che dobbiamo guadagnarci tutto in campo e che vittorie come queste al cospetto di una squadra che seppur nuova io reputo molto forte farà alzare le aspettative e farà alzare il livello con cui gli avversari ci giocheranno contro per cui sarà sempre il campo e l'allenamento che dovrà essere al top per consentirci eventualmente di poter ambire a qualche piazza importante